ok così senza looting ragazzi è un'impresa impossibile sto tornando a casa con tre end per il 17 shroom light e sei blocchi di quarzo ritorniamo a casa e poi direi che mentre cercheremo il portale del land magari se mi finiscono durante la notte vedremo di battere questo qualche enderman ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Lo scudo nella mano destra. Minchia. 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 ok eccoci qua a casa allora ho già 4 ender eye posiamo questi blocchi qui che non ci servono siamo in tutto a 7 quindi direi direi che con 7 dovrei farcela allora il cibo lo abbiamo questo vabbè potrei anche posarlo che non mi serve qua il vetro le blades powder posiamo no vabbè me le porto e direi di partire all'avventura ragazzi non ti rompere no vabbè no vabbè no vabbè mezzogiorno pensavo che fosse notte andiamo avanti ragazzi e vediamo di iniziare questa nuova esplorazione verso l'end ok dammela ok 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 Grazie a tutti. Sempre avanti. Grazie a tutti.